Grande soddisfazione da parte degli organizzatori della Garda Trentino Trail, la gara di corsa in montagna svolta a Sissabato, con traguardo posizionato in piazza 3 Novembre a Riva del Garda. Una manifestazione che ha visto gli atleti correre sotto una fitta pioggia che dal primo pomeriggio è caduta sul tracciato di 60 chilometri e 3.500 metri di dislivello, disegnati tra i laghi di Garda, Tenno e Ledro, sui sentieri che hanno portato gli atleti a sfiorare i 1.800 metri di quota delle Alpi di Ledro, su un sentiero della pace innevato. Condizioni davvero estreme che comunque non hanno spaventato i 663 coraggiosi trailer che hanno resistito alle intemperie e alla fatica completando il tracciato delle tre gare suddivise per lunghezza previste dagli organizzatori. Ancora una volta dunque il trionfatore del Garda Trentino Trail è stato lo spirito sportivo che sa infondere questo genere di attività outdoor, tanto faticosa ma per questo completamente totalizzante a prescindere dal risultato. A fine gara gli organizzatori ringraziano gli oltre 200 volontari che si sono prodigati perché tutto andasse bene al soccorso alpino, alla provincia autonoma di Trento e a tutti i sostenitori che hanno creduto ancora una volta alle potenzialità e al fascino del Garda Trentino. Grazie. Grazie.